ciao benvenuti ai cari stipendi online faccio questo video per avvisarvi di alcuni problemi in queste piattaforme una è bitcoin invest club e l'altra è aurora online qui mi hanno avvisato alcuni di voi che ci sono dei problemi allora io sono andato a fare delle ricerche delle ricerche su qualche monitor ad esempio su bitcoin invest club usato o live monitor per andare a vedere ho cercato vedete qui danno che pagate con l'ottanta per cento però ci sono alcuni problemi quindi io ho fatto la richiesta ieri di pagamento ancora non sono passate 24 ore quindi non so se mi pagheranno o no però cominciamo ad avvisare che potrebbe essere scam questa piattaforma quando queste piattaforme vengono fatte proprio per quello non possono durare in eterno e invece l'altra che ieri mi avevano avvisato che non pagava io ho fatto il prelievo e sono stato pagato però il curiosito se adesso sono un dollaro e 96 ma anche ancora devo arrivare a 3 dollari e 46 per poter prelevare che vuol dire che è passata una giornata intera praticamente per poter riprovare a prelevare ieri sono riuscito a prelevare andiamo a vedere qualcuno che già mi diceva che verso le quattro pomeriggio non riusciva a prelevare invece ho prelevato alle sei e mezza vedete alle 18 e 30 di sera 3 dollari 93 senza nessun problema quindi non lo so però sono andato a vedere in un altro monitor ma in questo questo quasi che un altro sempre dei monitor per vedere se le hype sono funzionante no ho scritto ormai qua vedete da un problema ieri invece non dava problema adesso da problema quindi ci potrebbe essere questi problemi adesso io metterò scam su queste due piattaforme sul video anzi metterò problem per il momento e poi magari faremo poi dopo aggiornerò magari in scam comunque adesso li stiamo controllando oggi e domenica vediamo cosa succederà su queste due qua qui lo danno ancora pagante però danno su bitcoin investe però danno sei problemi quindi quindi non sappiamo bene come come la situazione io qua ieri ho cercato di prelevare mettiamo il codice per entrare vediamo se ancora in pending dove dov'è la stipendio di cipendi vedete 11 44 ancora in pending molti dicono che viene riviene rimandato nelle nel bilancio per me ancora in pending adesso vediamo non mi hanno mai pagato che in modo veloce su questa soprattutto in questa piattaforma niente comunque qua so che 24 ore per vedere come la situazione sono mancherano ancora una decina d'ore per capire euro ormai quando arriverò la cifra di due cavolo qui dovrebbe essere torniamo sul dashboard ok quando arriverò la cifra di 3,45 dollari allora vuol dire che ho fatto la giornata intera potrò prelevare vediamo se mi paga o no niente questo era un video per informarvi se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace e iscrivetevi al mio canale io vi saluto e buon guadagno online a tutti